E si continua, si continua, benissimo, inizia già bene, si continua, il mausoleo dei caduti E lei si è impallata E quello cos'è? Che diamine, non so cosa sia ma di sicuro non è stato costruito dalla mia gente Allora chi l'ha realizzato? Caio? E' probabile, costruire una bruttura simile di fronte alla mia città, cosa ti è venuto in mente? Ma è enorme, se prima della guerra non esisteva, da quanto tempo sei prigioniera? Vorrei potertelo dire, suppongo che quella della magia che ha usato ci abbia tenuto tutti addomesticati per molto tempo Addormentati, scusate Allora speriamo di scoprire il prima possibile Di scoprirlo Mausoleo dei caduti, va bene Salve Allora, iniziamo Crozu Nel secondo Crozu qui da qualche parte c'è un ingresso segreto, non mi piace questo posto Perciò facciamo in fretta, ok? Ok Come sempre Sì, in effetti c'ha ragione anche lui Qua ce n'era uno No Vediamo se è così Uno solo l'abbiamo chiamato, ottimo Anzi, aspettate, facciamo che venga e venga fin qua, va Eccolo Via Eeeh, ciao ciccio Ottimo Proviamo anche qua là Non ci arriva Non ce la fa Ah, là giù c'è qualcuno Aspetta, perché... Eeeh Vai Ottimo Uh, che pelo Aspetta che qua ci vedono Ecco, bravo Mettiti nascosto lì, va Eh, lo vedo, lo vedo No Darebbe no Tranquillo No, perché devi capire che c'è Funziona così, funziona Bravo, anche tu che li rifermo Tranquillo Mi stavi un po' sulle palle Sono sincero E quindi ho dovuto per forza far così Allora, una malatta A 21 metri sotto di noi Qua che cazzarola ci sarebbe? Acqua? Ehi, di sì Sì, no What? Che cosa? Dove cazzaro la son finito? No, buggone enorme Ecco, appunto Eh, è acqua questa, no? Sì Ah, bello Guardate che bello Eeeh, sono morto male Prima si vedeva diversamente le cose Ma va bene Qua non so perché Prima ti faceva accedere Adesso non più Vabbè Comunque Allora, quando fischi Ti apre la porta Ah, vedi Capito Hai capito Qua dentro? Non c'è nient'altro, no? Qua Secondo me no Ok Allora, vediamo dove cazzola siamo Intanto Qua ci potrebbe essere gente Sicuramente ci sarà gente Non vedo però nessuno Intanto qua c'è una pergamena Yeah Tre punti abilità Vediamo che cos'è che dobbiamo sbloccare Che abbiamo detto che dobbiamo sbloccare Ah già, il potere è questo qui Ne manca ancora uno, quindi Di punti abilità Mi ricordavo che c'erano anche altri nemici qua Invece, boh A quanto pare no Eh, sì Perché qua è chiuso però Aspetta Dove? Chi cazzo che mi avrebbe sentito? Perdonatemi Chi che mi avrebbe sentito? Beh? Eh, ma qua si è chiuso Come dovrei fare? Aspettate Perché noi siamo arrivati da qua Ma che cazzo? Non sto capendo Sono sincero Dobbiamo Ma dobbiamo andare di là Ma qua c'è solamente questa E basta Eh, nini Eh Ma non ci sei nini? Ah sì Ok Ho visto dov'è Sono solo ombre Beh, più o meno Più o meno Sono solo ombre Più o meno Ottimo Lo sto guardando Se qua sopra c'è la gente No, non mi sta cagando Se non mi caga Io faccio finta di niente E rimango lì Pensavo mi cagasse Sono sincero Invece no Ok Meglio, eh Se non mi caga meglio Sono ben contento Se non mi caga Qua dovrebbe esserci ne uno Perché Era dove prima Infatti qua ce n'è uno Ottimo Benissimo Allora Sarebbe da salire su di sopra Ci riuscissimo Sarebbe un'ottima cosa Però No Prendi Cazzo Che pelo Che pelo Cazzo Arora No Non l'ho mai visto Mai visto? Sul serio? Vieni allora Tranquillo No Non l'ho mai visto Ti dico che non l'hai visto Allora Aspetta 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 No Non l'ho mai visto neanche te Tutti non mi avete visto Voi pensate di vedermi Ma in realtà Non mi vedete ragazzi Io ve lo dico Oh bene Anche il quarto potere Così Ci possiamo un po' divertire Adesso Niente Via 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 Allora intanto andrò a togliere quei corpi lì Che non si sa mai Qua sopra tra l'altro non so se ce ne sono altri C'ho per meglio dire non mi ricordo Corroso mi ha appena dato un'informazione interessante Ok Cioè Ha detto che la stanza centrale si trova oltre queste porte Al centro c'è una porta che dobbiamo superare Ma è protetta da una barriera di luce Ok E' entrata a quattro sfere Ognuna si trova in una stanza separata E' dedicata ad un diverso elemento Fuoco, acqua, terra e vento Devi distruggere tutte per raggiungere il 3 mano Ok Perfetto Ottimo Non ci arrivo Facciamo così Ah vai Ok 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 Grande Ottimo L'altro dove cazzo non è finito Raggiù visto Devo provare un secondo anche io il nuovo potere Visto che ce l'abbiamo perché non usarlo Oh l'oscurità Ok questo qua di potere come vedete è figo ragazzi Perché La cosa bella 12 42 metri Aspettate Vediamo se c'è altro che devo prendere che non ho preso No dovrei aver preso tutto Dovrei aver preso I kunai non li abbiamo usati però Vero? Sembra di no che non li abbiamo usati I kunai Vabbè che tecnicamente tanto c'è l'abbiamo dall'altra parte Ok andiamo Qua abbiamo preso tutto per fortuna Ok Devo ricordarmi come farlo questo Aspetta Non ci arrivo Ah Sì Scendiamo giù di qua Quello lì guarda qua Aspetta Quello non guarda nessuno in realtà Quindi volendo potrei anche fare La mossa bieca di uccidere lui Con molta calma Con molto silenzio Anche Ok Ottimo Guardate l'altro Ce n'è uno qua Oh È scomparso Eh là sopra è un casino arrivarci Ah forse è questo qua che si è fatto al giro Può darsi Se prima non vedo più l'altro tipo Però è ottimo Se va lì Cioè proprio siamo a cavallissimo Metteteli Girati Non ti giri È la box Non ti giri No cazzo No cazzo Non l'avevo visto Che fatica Niente Ottimo Bene Allora aspetta che vado là dietro un attimo Allora Quello là sopra lo posso Ah aspetta giusto Ottimo Bella lì Così anche questo è a posto Allora qua sarebbe da fare una bastardata Aspettate Fatemi un attimo ragionare la mossa Venite Tutte e due Vai L'amo sta mossa È troppo bella Ok Vai col kunai Ho fatto proprio una bella kill stavolta Mi è piaciuto un botto Allora dobbiamo capire un secondo però Dove cazzo andare Perché io non sto capendo più Aspettate Prima Sì Prima dobbiamo aprire tutto ovunque ragazze Perché È inutile che faccio casino O altro Tanto Quello ha E quello ha Gli altri tipi dove cazzo Sono finiti Tutte e due sulla dietro Allora Ascolta un po' Ma se io provassi a fare una cosa Non ortodossa Ma magari riusciamo a farlo Allora aspettate Facciamo così Altro Nessuno veramente Niente Eh ma qua mi scoccia un pochino Eh ormai Ormai L'abbiamo fatto È stata bellissima un po' la scena No Eh no ciccio Te l'ho già detto Te l'ho già detto Che non mi devi rompere i coglioni Uh aspetta che però Lì c'è C'è l'altro Ok va a finire che ce la vede Ok Benissimo Il problema grosso È come cazzo facciamo Ad andarla sopra Io vorrei andarla sopra un attimo C'è una maniera Per andarla sopra Vediamo un po' Tipo da qua Si può passare Se è grande Eh no Niente Ora niente Ah l'altro è un po' più lontanino Infatti lo vedo Ottimo Adesso c'è tutto il giro Praticamente Quando andava sto qua Vi rendete conto Aspetta Ottimo E ok Uccisi tutti Perfetto E adesso possiamo andarci a fare le nostre cosine Allora Partiamo da qua Dai Aspettate qua Da dove siamo andati Però aspettate Già che ci siamo Metto a posto anche questo Perché non ci da più Ok Il primo è qua Qua ce ne sono altri 17.000 nemici Praticamente Ho sbagliato il tasto Lo so Lo so Vorrei usare il kunai Ho sbagliato Ma va bene La sua cosa L'ha fatta Comunque Volevo fare qualcosa Di simile Ma vabbè Grande Ottimo Ottimissimo Questi li abbiamo seccati Proprio bene Sto qua sotto Ma volendo Potremmo anche seccare Quello di sotto Aspettiamo un attimo Perché volevo prima Fare quello lì Ok Ok Togliamolo Grande Grande Ottimo 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 Aspettiamo Aspettate un attimo Proviamo a far così E Vai Vai lì ciccio Scusate Scusate che Io sta trappola Lamo all'infinito E oltre Baslight Cioè è proprio Bella Sta trappola Allora Lui è passato Giù di lì Quindi andiamo Secondo Giù di qui Giù di qui M'ha visto? Non m'ha visto Non so come Cazzo ha fatto Fanno a vedermi Ciao Bello Oh Ottimo Visto Allora L'ideale Sarebbe Aspettate Che cambiamo Il potere Che mi serve Questo qui Allora Appena sto qua Si sposta Perché Dovete sapere Che il potere Quello che utilizzo Il drago Praticamente Vi ridà Uno dei poteri Vedete che Il potere È a zero Il mio potere Di questo qua Quindi cosa Devo fare Devo per forza Ucciderlo Col drago Che è un'ottima Cosa Vedete adesso Mi ha dato Il potere Nuovo Tac E te E così Siamo a posto Ok Qua dovremmo Pensare Non sai che Non so se abbiamo Ucciso tutto Forse Giù di sotto C'è ancora qualcuno Sai che Non lo so Può vedere Se c'è giù Qualcuno Ancora Può darsi No Qua non vedo Nessuno Secondo me Erano tutti A secondo piano Sapete Non vorrei dirvi Ma secondo me Erano tutti A secondo piano Vediamo Controlliamo Bene Poi ci è Spuntato uno Di nemico Così a puffo Che ci guarda Ehi Ciao Anche tu qua Sì Anche io qua Allora Qua che cosa c'è Fammi un po' vedere Allora Bisogna salire Bisogna Aspetta Ci sono nemici Ancora E' semplice Vedere qualcosa Qui No L'ho visto male Ottimo Ne mancano tre Allora Qua altre Pergamene Ce ne sono Non mi sembra Di vederne qua Perché mi sembra Tutte che siano 100 metri 83 metri Andiamo giù Allora Allora Si andava Giù di qui Ottimo Allora Però qua Me ne dà Una 36 metri Aspettate un attimo Scusatemi La cazzo Sarebbe Questa qua 36 metri Guardate qua C'è questo simbolo Che l'hanno Vero anche visto 10 metri Qua dentro Aspetta Aspetta Me lo dà Qua dentro O forse Qua sotto Eccola qua Trovata Trovata Infatti sta Vicendo Cazzo Non è da Una qua Però A proposito Adesso il prossimo potere Che prendiamo Direi di iniziare a fare Un pochettino Serve da Prendere Shinen 2 All Non mi piace Particolarmente Prima No facciamo questi qua Va che sono un po' Meglio Allora Aspettate che Mi sentivano Già perso Ma piccato perché È abbastanza La perdita Questa zona Ok Ah ce n'è una Qua A 100 metri Quindi devi andare Tranquilli Ah ci facciamo Questa zona Di qua adesso Direi Il fuoco Abbiamo iniziato con La terra No l'acqua Ah era il simbolo Ecco che cos'era Quello di prima Ah qua è tutto chiuso Forse di qua Non ci possiamo andare ancora No mi sa tanto di no Dobbiamo prima andare Dall'altra parte Ah no aspetta Si può andare dritti Che scemo Ok Aspetta Ok Grande Infatti stavo cercando di capire Dove cazzo Ecco qua Magari guardiamo Dove sono i nemici Va Che qua mi sa tanto Che ci serve A saperlo Dove sono i nemici Ok 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 Uno l'ho visto Ottimo Grande Grande Dove Va vai a cagare Vai a cagare Vai Prima che arrivino qua A parte che ci Un'ambita Perché loro sono tutti A puttare In confronto Dove sono io Cioè però Che stronzo Comunque Questo qua Mi sarei mai aspettato Che mi vedesse Sto stronzone Che palle Insomma anche io Come cazzo Ho fatto a Vedarmi Ok Qua non c'è Nessuno Ma Aspetta qua Quindi Mi hanno fatto Tutti Gli hai di sé Allora Vai qua sopra Ah qua Ma ce ne sono altri Intanto da battere Allora Fammi un po' Vedere No Questo dove cazzo va Ben giù di là Vabbè Io potrei anche Provare a seccarlo Questo Vai di là Ok Sì L'ho visto Piano Vai lì Sì Sarebbero da seccare Prima quelli in alto Però Noi facciamo anche così No Seccarlo Seccarlo Ok grande Ma scusami C'è Questo qui c'è A fianco E non lo vede Non ho capito Sta cosa C'era a fianco Questo Perdonatemi C'è Io capisco tutto Ma Era a fianco Questo Non è che era Chissà dove Sì Vai pure Ok L'ho visto Sì Questa Qua sopra Sarebbe Assolutamente Da fare Così Così Silenzio No Vabbè Anche tu però Che cazzo Petta 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 Eh niente Ho fatto Una gran cagata Ho fatto Dove Ce la fate Eh invece No Eh vabbò No Grazie.